Anche Castellabate è aderito alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne con un'iniziativa dell'associazione locale della FIDAPA. Una panchina di colore rosso che simboleggia l'adesione alla campagna di sensibilizzazione contro i femminicidi e in favori delle pari opportunità è stata posta sul suggestivo belvedere sancostabile nel centro storico di Castellabate. Oltre all'inaugurazione della panchina si è tenuto un dibattito sul tema al castello dell'abbate, la visita alle mostre a cura della fondazione Pio Alferano e Virginia e Polito con una sala interamente dedicata alle donne e il ballo contro la violenza a cura della scuola Progetto Danza di Marianna Lupo. Penso che questa sarà un'esperienza che ripeteremo anche in altre frazioni perché è importante portare la voce della donna, dell'essere umano in genere perché noi vogliamo iniziare a stimolare tutte quante le persone, specialmente i giovani, nelle scuole, nella nostra comunità al rispetto verso quello che è prima di tutto l'essere umano ma soprattutto la donna. Noi stiamo portando avanti questa campagna di sensibilizzazione però quello che è importante è far venire fuori tutto il sommerso e dare un aiuto concreto poi alle donne che hanno bisogno oltre che al lavoro di prevenzione che è fondamentale soprattutto con i giovani perché se non ripartiamo da loro ci troveremo comunque un futuro con altri adulti violenti quindi con l'anno nuovo ci avvieremo anche una campagna di sensibilizzazione nelle scuole proprio per fare prevenzione. Abbiamo tenuto questa conferenza dove si è parlato, si è discusso ampiamente di questo fenomeno purtroppo che continua e c'è ed è presente soprattutto anche sul nostro territorio. Dobbiamo innanzitutto far presente sicuramente che la normativa, l'ordinamento giuridico sta cambiando. Si è parlato appunto del codice rosso, di questo nuovo bollino di accesso alle denunce quindi una sorta di corsia preferenziale che garantisce alla donna una tutela immediata rispetto al passato. Celebrare il 25 novembre la giornata internazionale contro la violenza delle donne ci vede ogni anno a ribadire purtroppo un dramma, una tragedia perché i numeri non sono numeri quelli dei femminicidi soprattutto, sono numeri che non diminuiscono. Sicuramente è importante l'inaspiramento della pena perché come ho avuto modo di dire io credo che anche per questo genere di assurdi reati solo la certezza della pena possa essere un ottimo deterrente e poi c'è tutto lo sforzo culturale che tutti quanti insieme senza mai abbassare la guardia a partire dalle istituzioni dalle istituzioni, dagli enti locali, dalle scuole, dalle famiglie soprattutto perché è nella famiglia che io credo che ci sia la prima forma di educazione a combattere che è appunto quella che è la disparità di genere.